Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di questa serie oggi andiamo a vedere come ho imparato a suonare questo strumento che è l'armonica ce l'ho sempre avuto in casa prima di tutto e niente, qua non posso dire nulla perchè questa video l'ho imparata semplicemente l'avevo portata dietro di me una volta ero uscito di casa e per suonare con qualche amico ho visto che così appena l'ho presa ho notato che sapevo fare questa canzone eppure io l'armonica non la sapevo suonare eppure sono riuscito a fare questa canzone e mi è venuto così, non avevo nemmeno guardato un video, un tutorial nulla a orecchio a orecchio sono riuscito a farla quindi è stato facile o difficile? molto facile orecchio spero che il video vi sia piaciuto e ciao a tutti